Stanno cercando di prendere gli alloggi! Sono alla Darsena! Teniamolo d'occhio! Gli esploratori sono pronti! Sono agli alloggi! Sono alla Darsena! Attacchiamo gli alloggi! Ecco, puoi ancora combattere! Sì, così! Tra un momento! Vogliono rubarci gli alloggi! Ti rubano la Darsena! Ti hanno rubato gli alloggi! Acqua in arrivo! Apri la bocca! Oh bell'ho! Oh ho 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 ho! Oh ho 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 ho! Grazie.